ho voluto ricaricare questo video questo youtube che l'avevo fatto proprio oggi perché siamo in un periodo critico qui ero al parco del fontanili fontanili chiamato anche parco di cinque comuni perché fa circostanza con cinque comuni di te cinque comuni per favore serverò cornaredo settimo milanese cerchiate poi e poi l'altro mi sfugge l'altro come si chiama e ho detto ma che memoria e almeno mi ricordo io dai l'anno scorso parco su milano comunque e l'anno scorso il mio amico qua ha perso la memoria chissà se lo rivedo quest'anno ha preso la sindrome dell'accampamento avrà perso ancora di più la memoria la memoria quest'anno l'anno scorso già non si ricordava cosa aveva mangiato mezzogiorno quest'anno è nato di disperazione io io mi ricordo adesso perché mantengo il senso motorio delle gambe vuol dire molto bene camminare camminare perché uno se cammina tiene la mente allenata come aldo questo video l'ho caricato in questo periodo critico perché chi abita in questa zona può benissimo andare può benissimo andare il parco dei fontanili guarda li prendi lì adesso andiamo a vedere l'altra zona del parco chiudi chiudi ciao